Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta. Carta prepagata non pignorabile. Se hai avuto delle difficoltà ad ottemperare i tuoi obblighi di restituzione di un capitale prestato, come ad esempio radio di un mutuo o di un finanziamento non opportunatamente saldate, a fronte di numerose richieste delle società di recupero crediti rimaste disattese, alla lunga può essere stato inserito tra i cattivi pagadori, oppure può essere divenuto un soggetto protestato. In entrambi i casi ottenere nuove linee di credito per te non sempre è possibile e sia le banche che gli istituti di credito molto spesso non ti hanno concesso né ti concedono fiducia. Tuttavia per i cattivi pagatori e per i protestati come te esistono delle soluzioni alternative, ovvero le carte di credito prepagate, che possono essere o non essere associate ad un codice IBAN. Ma tecnicamente una carta prepagata può essere pignorata? La risposta è sì. Carta prepagata soggetta a pignoramento. Le carte di credito, anche quelle prepagate, sono nominative. Non è detto che abbiano stampigliato su di essi i tuoi dati anagrafici, tuttavia quando hai inoltrato la tua richiesta per avere una carta di credito prepagata, sia con IBAN associato che senza, si sia trovato nella condizione di dover esibire dei documenti identificativi, quali il tuo codice fiscale e la tua carta di identità. E questo è sufficiente per rendere il prodotto nominativo e, ovviamente, associato alla tua persona. Ciò vuol dire che la tua carta di credito prepagata può essere pignorata. I creditori, infatti, possono pignorare tutti i tuoi beni personali, carte e conti inclusi. Esistono carte non pignorabili? Sì, ci sono anche se ormai sono diventato un prodotto piuttosto raro. Per trovarle occorre che tu sia disposto a darti parecchio da fare e, eventualmente, che tu abbia la possibilità di girare a lungo per trovare il luogo in cui ancora ne esistono degli esemplari. Si tratta delle cosiddette carte prepagate usa e getta. Sono vere e proprie carte di credito prepagate che, una volta esaurito l'importo disponibile, debbono venire distrutte perché diventano inutilizzabili. Il denaro contenuto in esse non può essere prelevato ma solamente speso. Fino a qualche anno fa era possibile acquistarle sia negli uffici postali che in tabaccheria. Ad oggi, però, questo prodotto è molto spesso difficile da reperire, quando non è del tutto introvabile, perché è stato sostituito un po' ovunque dalle carte di credito ricaricabili, che, lo ricordiamo, sono nominali. Queste particolari carte avevano un costo di rilascio piuttosto elevato, circa 5 euro, e avevano l'enorme vantaggio dell'anonimato più completo. Difatti, per averle non era richiesto alcun tipo di documento. Sono disponibili anche, volendo rimanere in tema di anonimato, le carte prepagate anonime, che, tuttavia, non sono delle vere carte di credito. Il loro profilo è leggermente differente, ma vale la pena citarle anche solo in breve, in quanto possono essere comunque un'opzione da considerare. Un ottimo prodotto per i soggetti protestati o per i cattivi pagatori. Esiste un prodotto innovativo, semplice da richiedere e accettato ovunque, che potrebbe fare al caso di chi, come te, può avere alle spalle una storia creditizia complessa. Si tratta di via buy di Mastercard. Via buy di Mastercard è un'ottima alternativa al conto corrente ed è indicata soprattutto per i soggetti protestati o per chi è stato classificato come cattivo pagatore. Stiamo parlando di una carta prepagata ricaricabile con un codice IBAN gratuito incluso. E ciò non solo ti permette di ricevere gli accrediti del tuo stipendio, oppure della tua pensione, ma ti consente anche di effettuare pagamenti tramite bonifico o di ricevere accrediti con lo stesso mezzo. È possibile ottenerla senza soggiacere né a controlli sul reddito né a verifiche della solidità finanziaria. Questi sono due aspetti molto importanti per chi, come te, ha alle proprie spalle un passato creditizio piuttosto complicato e travagliato. Per ottenerla ti bastano solo 24 ore e puoi ricaricarla sia in euro che in bitcoin. I pagamenti in euro sono gratuiti e lo sono anche le ricariche, a patto di effettuarle tramite bonifico. La richiesta di questa particolare e vantaggiosa carta avviene tramite internet. Ti basterà collegarti al sito http www.viabai.com e seguire la procedura guidata. Sul sito inoltre sono disponibili tutte le informazioni riguardanti i costi e le caratteristiche specifiche di questo prodotto. Concludendo, è utile una precisazione. Anche via buy di Mastercard è una carta prepagata nominativa, quindi in caso di pignoramento rientra tutti gli effetti tra i beni che debitori possono pignorare. C'è da notare che fino al momento in cui i potenziali creditori al di fuori dell'Inghilterra non vengono a conoscenza della tua carta conto, l'eventualità che si verifica un pignoramento della carta via buy è alquanto remota. Tuttavia è bene ricordare che dalla legislazione italiana non è prevista l'emissione di una carta prepagata non pignorabile.